E' una piazza San Pietro insolita quella che si è mostrata oggi a Romani e turisti, ma non per gli allevatori italiani dell'Associazione AIA, che in occasione della festività di Sant'Antonio Abbate hanno portato gli animali d'allevamento fino in Vaticano per la tradizionale benedizione. Nella celebrazione liturgica in Basilica, con l'offerta dei prodotti tipici di tutte le regioni italiane, il cardinale Angelo Comastri ha sottolineato come si stiano vivendo tempi difficili e siano dunque necessari più fede, più coraggio, più solidarietà, ricordando le parole e l'esempio di Giovanni XXIII, il papa contadino, nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. Al termine della cerimonia religiosa, in piazza San Pietro il cardinale ha benedetto gli allevatori e gli animali, in quella che è stata definita la fattoria sotto il cielo. I cavalli e gli asini, le mucche e i maiali, le pecore e le capre, i conigli e le oche, i tacchini e i galli, chiusi nei recinti, hanno composto un quadretto d'altri tempi, proprio nel cuore della capitale, assieme agli animali domestici tenuti al guinzaglio. Quindi, sotto una pioggia leggera, si è dipanato lungo via della conciliazione il corteo equestre, con carrozze e cavalieri in costume a chiudere la celebrazione.